E poi, diciamo che compensa un po' il problema della causa del corso. Perché è aperta dietro? Eh, lo scusate, è aperta. Pensa non si può. Quindi un pochino... Aiutano. Aiutano, ovviamente se uno è fatto un po' di cosa no. Sono farsi lato. Però, diciamo, fare anche i nazionali, a un'esplosione anche in modo particolare, che tutto sommato stanno in centro nel territorio di riferimento per alcune fatologie. Quindi, questo è stato un grande investimento. Non ci credo. Lo scusate, ti può ottenere un video. Eh, non so. Ma per i sistemi invece di pulizia, che cosa ti... Avete qualche sistema corpigionale? Sì, ci vediamo il sistema Coppola, che è il sistema, tra l'intervento lato, c'è la compli, in situazioni particolari, di allergie o l'artice. Sì. E va bene, l'aiuto, non c'è nessuna cosa positiva. Guarda che faccia da tono. Non c'è nessuna cosa positiva. Sì, è bello, che voglia ne farei già. Sì, è un certo punto. Non si può merlotti, non te ne è sufficiente. No, no, assolutamente. Allora pensiamo come le... C'era per dare l'antico che ho scritto. Ecco, perfetto. La gravidanza, come dire, è un frutto naturale, ma mica tanto. Bravi. Sì, morivamo tutte. Sì, bravi. Io ho una certa... I miei sono una divergenza.